Allora, buongiorno caro sorella, Dio ti benedica. Buongiorno fratello. Allora, come stai? Tu a posto? Tutto bene, tutto bene. Grazie a Dio. Allora, cerchiamo di parlare, mi è stata fatta una richiesta, una domanda, di spiegare sui 144.000, i famosissimi 144.000. Sì. Che sono descritti in Apocalisse. Sì, sì. Apocalisse 7, Apocalisse 14. Leggi magari uno stralcio di Apocalisse 7. Insomma, c'è chi dice che per esempio i testimoni di Gioia dicono che sono loro, i 144.000. Poi ci sono dei cristiani che dicono che sono ebrei. E poi c'è chi dice che sono i cristiani. Insomma, c'è un po' di... Confusione. Un po' di opinioni, insomma. Quindi, dopo ci si è Apocalisse 7, comincia a leggere il versetto 3. Sì. Allora. Non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte, con il sigillo, i servi del nostro Dio. Un essetto 4. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. Ok. Ok, ti puoi fermare. Quindi, se qualcuno si pensa, ma è un numero simbolico, qui Giovanni dice udì il loro numero. Quindi è come quando in Apocalisse 9 Giovanni udì il numero dell'esercito lì di 200 milioni. Cioè, quando dice udì, vuol dire che ha udito quanti sono. Quindi non è un numero simbolico. Sono proprio 144.000. Quindi, allora, qua siamo dentro il sesto sigillo, perché noi vediamo che in Apocalisse capitolo 6 vengono aperti i libri, il libro dei sette sigilli, no? Vengono aperti i libri dei sette sigilli. Quindi, questo è il continuo sempre del sesto sigillo, Apocalisse 7. Che è il sesto sigillo, sono eventi che sono una presentazione di eventi che poi vengono, come dire, aperti con le sette trombe, le sette coppe, che sono racchiuse nel settimo sigillo. Quindi, che cosa vogliamo capire? 144.000, quindi, appaiono nel tempo della fine. Perché, quando parliamo del sesto e del settimo sigillo, stiamo parlando del tempo della fine. Ecco, quindi, non è un numero simbolico. Allora, questi qua, dice, sono delle 12 tribù di Israele. Poi cita 12.000 dalla tribù di Giuseppe, 12.000, insomma, cita le 12 tribù di Israele. Quindi, all'apparenza, sembrerebbero ebrei questi qua, no? Infatti, ci sono molti che dicono che sono ebrei. Tu che dici, sorella? A vedere così sembrerebbe, perché indica per ogni tribù, no? A vedere così, però, prima ha detto che erano i servi del nostro Dio, quindi tutti, credo. Sì, però c'è chi dice che, praticamente, quando Israele si convertirà, e sappiamo che è sicuro che Israele si convertirà, e, allora, questi qua sono, diciamo, gli eletti, gli israeliti. Solo che poi c'è un po' di confusione tra il periodo di quando questo avviene, se è la tribolazione, se è durante, prima, dopo, il ritorno di Cristo. Insomma, c'è un po' di confusione. Allora, cerchiamo di capire una cosa. Per esempio, i Romani 11, ma in particolare Romani 11, Paolo spiega che, diciamo, Dio non è che ha due popoli. Dio ha solo un popolo sulla terra. Noi sappiamo che l'antico popolo di Dio era Israele. Sì. L'Israele, Gerusalemme, Zomile, che nel Vecchio Testamento esistevano le dodici tribù di Israele. Ora, le dodici tribù di Israele, anche poi quando arriva Gesù, non è che erano proprio scomparse, perché noi vediamo che Gesù stesso veniva dalla tribù di Giuda, poi c'era la mamma di Giovanni Battista, mi pare, che comunque veniva pure lei da una delle tribù. Insomma, non è che erano proprio scomparse. Da qui, e allora, tutti gli studiosi biblici, soprattutto gli ebrei messianici, loro ancora credono che, capisci, questi 144.000 saranno delle dodici tribù di Israele, cioè, di proprio Israele, i giudei. Sì. Però, dicevo, i Romani Unici. Lo collegano a quello. Ok. Sì, però i Romani Unici, Paolo spiega che Dio ha solo un popolo, però fa un esempio di un olivo, che è l'albero, l'olivo, e diciamo noi, i pagani gentili che siamo, siamo come l'olivo selvati, cioè noi siamo stati innestati, cioè sono stati troncati, i rami naturali, perché? Perché duemilità anni fa è venuto il Messia e gli israeliti l'hanno respinto. E allora, poi, i gentili, perché poi la salvezza è stata, d'accordo, mandata a tutto il mondo, quindi i gentili, poi i cristiani, diciamo, sono stati innestati all'albero naturale. E allora cosa sta dicendo? Sta dicendo che comunque noi sappiamo che gli ebrei si convertiranno, quindi però non è che quando si convertiranno seguiranno ancora la legge di Mosè, che la legge di Mosè è superata, Gesù è venuto per il nuovo patto, e quindi seguiranno la legge di Cristo, seguiranno Cristo. Quindi questo quando si convertiranno. Quindi però quanti popoli ci sono? Uno, due? Dio ha solo un popolo. Puoi andare un attimo in Galati, capitolo 3, per favore? Sì. Perché dobbiamo capire nel Nuovo Testamento cosa succede. Ok, Galati, capitolo 3. Versetto 16, puoi leggere? Certo. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice e alle progenie, come se si trattasse di molte, ma, come parlando di una sola, dice e alla tua progenie, che è Cristo. Quindi è chiaro. Quindi sai la promessa che Dio fece ad Abramo, la discendenza numerosa come le stelle, partiva dal popolo antico, poi, ma andando avanti con il corso dei secoli, qua dice, non è che disse alle tue discendenze, ma alla tua discendenza. Quindi non è che ci sono più di una discendenza, cioè non è che Dio c'è più di un popolo. C'è un solo popolo di Dio. Qui anche il discorso della discendenza della donna, a parte da Adam e Deva, abbiamo uno studio su questo. Quindi leggi poi il versetto 20, sembra lo stesso capitolo. Sì. dice, ora, un mediatore non è mediatore di un solo. Scusami, il versetto 29. Perdoami, il versetto 29. 29. Sì. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. Quindi tu, sorella, non sei ebrea di nascita, però dice, se sei di Cristo, tu sei discendenza di Abramo. Come fai ad essere discendenza di Abramo, se tu non sei, diciamo, giudeo di nascita, non sei di nessuna delle dodici tribù. D'accordo? Quindi sta parlando nello spirito. D'accordo? Infatti, Romani 2, 28-29, se i fratelli poi vanno a legge, dice che il giudeo non è colui che lo è esteriormente. cioè i giudei, cioè gli israeliti, gli ebrei, ma il giudeo lo è colui che lo è interiormente e la cui circoncisione è del cuore. Quindi sta dicendo l'Apostolo Paolo che nel Nuovo Testamento i cristiani sono giudei, non nella carne, non nello spirito. Posso chiederti una cosa, fratello? Mi viene in mente quella che Gesù diceva anche io non ho solo questo gregge, ma anche un altro gregge. Delle pecole che non sono di questo ovile, certo, lì parlava... Quindi, cioè praticamente non sono solo gli ebrei, ma tutti? Ma, diciamo, quando dice che le pecole che non sono di questo ovile, cioè gli ebrei, quando Gesù è venuto, l'hanno rifiutata ancora oggi, dopo duemila anni, loro ancora dicono che Gesù è un falso profeta. Sì. E quindi non sono pecore dell'ovile, però sono pecore, diciamo, quando loro si convertiranno, faranno parte, cioè loro abbandoneranno la legge di Mosè, che loro ancora seguono Mosè, la legge del taglione, eccetera. Il Messia non l'hanno riconosciuto, aspettano ancora il Messia che deve venire. Quindi i loro occhi sono annebbiati, cioè loro, a causa della mancanza di conversione a Cristo, loro non vedono, come dice l'Apostolo Paolo, dice da qualche parte nei Corinzi, lui dice che gli ebrei hanno un velo. Quando si convertiranno, il velo sarà rimosso. Allora, però, quando si converteranno, si converteranno Cristo, quindi diventeranno parte dell'unico ovile che Gesù dice, che c'è un solo ovile, quindi un solo popolo, non due ovili, due popoli, un popolo. Allora, nel Vecchio Testamento c'era l'Israele fisica, nel Vecchio Testamento l'Israele, i cristiani, i giudei, i cristiani sono giudei, sono l'Israele spirituale. Abbiamo visto Galati 3,29, se tu sei di Cristo, sei discendenza di Abramo. Allora, io sono italiano di nascita, come faccio ad essere discendenza di Abramo se nella carne io sono italiano, non sono giudeo, nessuna delle dodici tribù. Allora, vi leggi Giacomo 1,1? C'è un'altra cosa? Un attimo che lo cerco. Sì. C'è un'altra cosa? 1. 1. Giacomo, serbo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle dodici tribù che sono disperse nel mondo. Salute. Ecco, poi continua a dire che dice il versetto 2. Fratelli miei, considerate una grande gioia. Fermati, fermati. Quindi, c'è chi dice che Giacomo sta salutando gli ebrei sparsi per il mondo. Però qua, lui, uno, dobbiamo capire una cosa. quando questi qua scrivevano l'epistola e gli ebrei li perseguitavano ai fratelli qua in Cristo, ai cristiani. Poi lui richiama fratelli, quindi dice fratelli miei, lui scrive una lettera alle dodici tribù di stare sparsi per il mondo. Sì. Chi è di Cristo è discendenza di Abramo. Nello spirito, c'è tu, nello spirito diventi discendenza di Abramo. Sì. Ecco, quindi Giacomo sta salutando i cristiani, i fratelli in Cristo che sono sparsi in tutto il mondo, che sono giudei nello spirito della discendenza di Abramo, quindi cristiani. Noi siamo cristiani, l'Israele è il Nuovo Testamento. Va bene? Ok, ok. Quindi vai in Apocalisse 14, dove parla ancora di questi 144.000. Apocalisse 14. Ok. Ecco, mi leggi il versetto 1 e il versetto 4 e 5. 1, 4 e 5. Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte. No, fermati. Sì? Fermati un attimo. Fai un salto, tienila il segno e vai in Apocalisse 3 e dice, vedi, 144.000 sul monte Sion sono gli stessi 144.000 di Apocalisse 7 e dice, hanno il nome di Cristo e di Dio sulla fronte, no? Sì. In Apocalisse 3 versetto 12, questa diciamo è la chiesa di Filadelfia, Gesù dice, Sì, chi vince io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Gesù dice a chi vince la chiesa di Filadelfia tra le altre cose ci scriverò il nome di mio pari sulla fronte, no? Ovviamente questo nome è una cosa spirituale come un sigillo, va bene. D'accordo, in Apocalisse 14 siamo a cavallo tra il dopo che Gesù è già tornato, il ritorno di Cristo qui è già venuto in Apocalisse 14, quindi siamo a cavallo tra la fine della tribolazione, la fine del rapimento e l'inizio dell'ira di Dio perché in Apocalisse 15 inizia l'ira di Dio nell'Apocalisse. Quindi in Apocalisse 14 qua il rapimento c'è già stato. Quindi i 144.000 non sono mica tutta la chiesa del tempo dell'Avvina ma di tutta la chiesa perché in Apocalisse 7 Giovanni non ha solo una visione dei 144.000 più avanti poi vede anche una visione di una grandissima una folla che non si può contare d'accordo quindi i 144.000 sono come dice se torni in Apocalisse 14 dice che sono le primizie adesso leggiamo il versetto 4 e 5 però vediamo che notiamo che Gesù ha promesso promete a chi sfilade a chi vince dice tra le cose no siederà insomma gli fa diverse promesse poi gli dice scriverò il nome mio del padre sulla fronte allora questi 144.000 ci hanno in fronte il nome di Dio e di Gesù Cristo cioè è la stessa cosa cioè quindi questo sigillo perché vediamo che pure in Apocalisse 7 dice sigillare vengono sigillati ecco questo sigillo secondo me è il nome a che fare col sigillo cioè il sigillo è è una cosa spirituale no? spirituale certo ecco quindi vediamo che questi qua sono sicuramente cristiani non possono essere ebrei questi 144.000 puoi leggere il versetto 4 e 5 sì essi sono quelli che non si sono contaminati con donne poiché sono vergini essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello nella bocca loro non è stata trovata menzogna sono irreprensibili ecco allora torna in Giacomo Giacomo 1 versetto 18 versetto 18 egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature allora in ogni secolo qua siamo nel tempo della fine in Apocalisse d'accordo allora in ogni secolo la chiesa come anche duemila anni fa c'erano gli apostoli che erano un po' le primizie d'accordo infatti sono loro le dodici fondamenta lì di Giusaleme le dodici porte i loro nomi eccetera cioè come duemila anni fa come oggi come sempre come nel tempo della fine ci sono i cristiani che sono i come dice qua i reprensibili cioè che vuol dire i reprensibili che uno non fa compromessi con niente con il mondo con il diavolo non è conformato al mondo addio al 100% la sua vita senza riserva d'accordo senza compromesso niente quindi reprensibili non vuol dire senza peccato vuol dire che non si piega non adora idoli non adora altre cose all'infuori di Dio infatti quando dice che non sono contaminati con donne insomma io non credo che si riferisca all'essere femminile perché Dio ha creato il matrimonio non è che se l'uomo si unisce una donna in matrimonio viene contaminato quindi sta parlando secondo me di cose spirituali le donne inteso idolatria demoni perché quindi questi qua sono fedeli a Dio al 100% d'accordo sono fedeli a Cristo quindi fatti vengono chiamate le primizie sono vergini quindi una verginità ovviamente non fisica spirituale in secondo Corinzi 11 versetto 2 parlando di Corinzi Paolo scriveva diceva che vi ho fidanzati come una vergine casta a Cristo quindi cioè noi siamo fidanzati noi sappiamo che ci saranno le nostre dell'agnello allora non tutta la chiesa sarà la sposa di Cristo quindi però quelli che saranno fedeli come ogni marito sposo a una moglie fedele non è che un marito sposo a una moglie che c'è l'amante già durante il fidanzamento cioè il fidanzamento che cos'è è un periodo diciamo di conoscenza no? prima uno prima di sposarsi no? si fidanza per capire no? per conoscersi meglio in un certo senso ecco quindi la chiesa noi siamo fidanzati poi con Cristo poi quelli di noi che saranno fedeli cioè reprensibili cioè che non saranno contaminati con donne cioè cosa vuol dire? che noi abbiamo amanti cosa sono gli amanti? se è adorazione che ne so denaro materialismo e altre cose che in questa vita possono diventare idoli allora se siamo irreprensibili cioè Gesù Dio al primo posto senza compromesse senza conformarsi al mondo e a niente è irreprensibile quindi sei fedele questi qua i 144.000 nel tempo della fine sono saranno come dire come le guide come i dodici apostoli saranno come 144.000 come i dodici d'accordo? poi saranno capeggiati dai due testimoni a Apocalisse 13 quindi sono un po' l'aiuto che Dio dava nel tempo della fine alla Chiesa sappiamo ci sarà l'Anticristo la grande tribolazione questi qua saranno un po' come le guide come dire come i dodici apostoli questi 144.000 come i dodici d'accordo? sì quindi qua stiamo parlando di cristiani puoi andare anche in Efesini 1.4 così vediamo e poi cerchiamo di concludere Efesini 1.4 sì in lui ci hai letti prima della fondazione del mondo perché fossimo santi e riprensibili dinnanzi a lui ecco quindi Amen il fatto di essere che tutti sono irreprensibili cosa vuol dire non vuol dire santi perché esser senza peccato ma riprensibili cioè non hanno capito non fanno compromessi con niente quindi Gesù Dio al primo posto ad ogni costo con i dovuti o le dovute conseguenze perché quando tu segui Cristo devi essere discepolo di Cristo c'è sempre un prezzo a pagare c'è sempre qualcuno che ti abbandona può essere anche qualcuno che ami però devi seguire Gesù e seguendo Gesù perdi anche tutto ciò che puoi perdere o devi essere disposto a perdere qualsiasi cosa quindi irreprensibili d'accordo questi sono la leadership della Chiesa nel tempo della fine perché questi ripeto appaiono nel sesto sigilo quindi siamo nel tempo della fine non è come dicono alcune religioni che i 12 discepoli sono i primi dei 144.000 questi appaiono nel tempo della fine quindi non è un numero simbolico ma è proprio un numero effettivo perché Giovanni dice udì il loro numero quindi non possono essere israeliti perché quando si convertono Israele quando si converte allora chiariamo questo congetto poi chiudiamo vai in Zaccaria capitolo 12 dove c'è una delle profezie dove parla di quando Israele si convertirà no ecco quindi Zaccaria capitolo 12 ci sono allora leggi andiamo in mezzi in mezzi non abbiamo tempo di leggere tutto il capitolo quindi allora leggi versetto 2 e versetto 3 per capire qui in che contesto è Zaccaria 12 leggi versetto 2 versetto 3 ok ecco io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti questo concernerà anche Giuda quando Gerusalemme sarà assediata in quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti e tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei ok qua praticamente c'è un evento in tutta la Bibbia dove tutte le nazioni faranno guerra a Gerusalemme e questo è il giorno di Armageddon il giorno del Signore quindi lo vediamo anche in Ezeghia 38 39 Apocalisse 19 insomma questo è praticamente Armageddon poi anche più avanti in Zaccaria capitolo 14 come collegato da Apocalisse 19 Gesù ritornerà con la sposa di Cristo su cavalli bianchi per far guerra agli eserciti da bestia d'anticristo che saranno 200 milioni come dice Apocalisse 9 che faranno guerra a Gerusalemme allora leggi poi dal versetto 10 che è del capitolo 12 va bene spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione essi guarderanno a me a colui che essi hanno trafitto e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primo genito in quel giorno ci sarà un gran lutto in Gerusalemme pari al lutto di Adadrimmon nella valle di Meghitto il paese farà cordoglio ogni famiglia per proprio conto puoi fermarti qua perché fa capire sta dicendo qua verserò sulla casa di Davide sta parlando dei giudei nella carne la casa di Davide i discendenti di Abramo nella carne sta parlando di Gerusalemme gli ebrei lo spirito di supplicazione essi guarderanno a me a colui che hanno trafitto farà un cordoglio per lui come per un figlio unico cioè questi da duemila anni che bestemmiano il nome di Gesù che bestemmiano il nome del loro Dio bestemmiano capisci sputano sul nome di Gesù falso profeta cioè quando loro capiranno e come lo capiranno noi sappiamo che quando Gesù ritornerà per per esempio il rapimento della Chiesa a Matteo 24 rapisce la Chiesa mica rapisce gli ebrei ok allora qui siamo ad Armageddon noi sappiamo che Armageddon è l'ultimo atto delle sette coppe quindi nell'Apocalisse avviene in d'accordo l'Apocalisse 17 18 19 che comprende la distruzione di Babilonia e quindi poi la battaglia di Armageddon il famoso giorno del Signore quindi il rapimento della Chiesa avviene prima dell'ira di Dio ok quindi gli ebrei non saranno rapiti allora quando quando torna Gesù da dove ritorna Gesù come dice l'Evangelo tornerà da dove se n'è andato quindi Gesù se n'è andò ascendendo al cielo sul monte degli Ulivi salì su una nuvola dagli apostoli e sparì tornerà sempre come la maledissima maniera come se n'è andato dice nel Vangelo tornerà sulle nuvole e manderà gli angeli a rapire la Chiesa Matteo 24 29 31 però gli ebrei non saranno rapiti perché non credono va bene allora quando loro vedranno che Gesù colui che hanno crocifisso era lui il messia allora questi piangeranno come dice qua amaramente franco ordoglio addolorare dicono allora era Gesù sono duemila anni che bestemmiamo il nostro Dio sono duemila anni che lo sputiamo il suo nome sono duemila anni allora piangeranno amaramente capito perché come dice qua metterò uno spirito di supplicazione chiederanno grandemente perdono perché è duemila anni che loro capisci e allora faranno dice cordoglio come quando uno perde un figlio unico grandemente addolorati come per un primo genito capito loro capiranno che sono duemila anni che sono ingannati e allora faranno una grande cordoglia però Dio capisci perché manda lo spirito di supplicazione perché Dio li ama a motivo dei loro padri se è Abramo Mosè i patriarchi no e allora Dio non è che li spingerà anzi infatti la battaglia Armageddon che cos'è è Gesù che torna col cavallo bianco con la sposa di Cristo su cavalli bianchi per distruggere gli eserciti che avranno mosso guerra contro Gerusalemme e per fare che cosa per difendere proprio Israele che a quel punto si sarà convertita allora perché sto dicendo questo perché Israele quando si converte Israele si converte dopo il ritorno di Cristo va bene allora i 144.000 quando appaiono nella scena diciamo profetica del tempo della fine noi vediamo che lì all'inizio Apocalisse 7 che l'angelo dice non danneggiate nella terra nel mare prima che non siano sigillati i serviti del nostro Dio noi vediamo che poi all'Apocalisse 8 cominciano le sette trombe le prime tre trombe vengono danneggiate la terra le piante e le acque quindi le sette trombe riguardano il periodo che parla diciamo dell'anticristo della tribolazione di cui Gesù fra ritorno alla settima tromba quindi primo corinzi 15 51 52 Gesù fa ritorno al suono dell'ultima tromba quindi sette trombe alla settima tromba Apocalisse 11 15 Gesù ritorna e quindi poi le sette coppe viene dopo cioè le sette coppe Apocalisse 15 iniziano stiamo parlando dei giudizi di Dio sul mondo che non possono venire finché c'è la chiesa finché ci sono i figli di Dio Dio non può mandare i suoi giudizi sulla terra ma quando la chiesa viene tolta allora comincia l'ira di Dio le sette coppe quindi le sette coppe culminano con Armageddon la settima coppa quindi Apocalisse 19 Gesù pare su un cavallo bianco insieme a tutti la sposa di Cristo su cavalli bianchi per far guerra quindi a quel punto Israele si è convertita quindi i 144.000 anche per questo motivo non possono essere gli israeli diciamo gli ebrei perché quando loro appaiono gli ebrei ancora non si convertono gli ebrei si convertiranno quando vedono Gesù che dice allora ma era lui allora il messia che abbiamo crocifisso e piangeranno piangeranno amaramente questo durante l'ira di Dio loro questo spirito di supplicazione che Dio manderà quando loro si saranno convertiti perché tutti gli eserciti dell'anticristo staranno facendo guerra muoveranno guerra invaderanno Israele le profezie parlano che entrerà dentro l'anticristo invaderà Israele si siederà pure nel tempio che sarà ricostruito dichiarando di essere Dio l'anticristo no però poi Gesù ritorna per l'atto di Amageddon per difendere proprio Israele infatti poi quando inizierà il millennio Israele sarà la capitale del mondo e vabbè questo è un'altra storia e va bene quindi quindi 144.000 sono cristiani ok è abbastanza chiaro abbastanza chiaro sì sì va bene allora salutiamo fratelli sorelle se per caso avete non so ulteriore volete farci ancora domande oppure rimostranze ma ma sai in questa scrittura scriveteci vediamo accettiamo commenti accettiamo messaggi va bene Dio benedica a tutti fratelli e sorelle Dio benedica a te Noemi grazie per dati una mano in questo mini studio grazie fratello a te per le spiegazioni grazie a Gesù speriamo di ricevere qualche commento così vediamo se è stato capito compreso bene ma penso le scritture erano chiare vabbè intanto mandiamo a chi ce l'ha chiesto e sicuramente avremo i loro commenti va bene grazie a Dio gloria a Dio per ogni cosa ciao a tutti fratelli ciao buona giornata Dio vi benedica grazie a Dio